Un tempo, là dove oggi c'era i due due, esisteva la contea di una giovane donna speciale, la contessa di Via Ziago, una di noi. Ah, il conte di Ramacca! Ma perché? Non si fa mai avanti con me! Eppure, io lo so che egli mi ama. Egli mi ama! Considerando che c'è un pieno io l'apprezzo, sarei disposto a tutto per averne un po'. Considerando che Alfredo e Mario io l'apprezzo, sarei disposto a tutto per averne un po'. Conte! Conte di Ramacca! Mamma mia, ancora questa pazza, ma veramente, ancora tu, ma cosa fai? Conte, vedi cosa mi è successo oggi? Qualcuno ha incendiato la casa della mia vicina! No, non è possibile! Ho sbagliato il numero civico, un'altra volta, veramente! Scusa, ma tu non eri il fornissario di Via Ziago al numero 8? No, conte, io sono a Via Ziago 10! Mamma mia, quando mi dispiace, quanta diavolina sprecata, veramente! Tanta diaziera miocata! Per fortuna, conte, in questo incendio alla vicina non si è fatta nulla. Soltanto è rimasto un po' a ferito il figlio a Armando, quello che fa il modello. Eh, modello? Sì! Armando? Ma quale è quello alto, biondo, ricciotti, azzurri, mulazzo, petto, cento veche, braccio di ferro, coscia lunga, carta di tendità numero A, J, 6, 8, 7, 5, 5, 4, 5, 6, rilasciata dal questore di Romico? Eh, ma è lui, lo conoscete? No, ma andiamo a vedere se si è fatto male, Armando, Armando! Arrivati a destinazione, il conte di Ramacca incontrò il bellissimo modello Armando! Eccomi qua, sono il bellissimo modello Armando, piacere! Armando, ma lei, più che un incendio, ha fatto un trondale? No, no, e l'incendio, grazie a te, non mi sono fatto niente, c'ho solo un problemuscio a braccio! E lo romperei quel braccio, veramente, non è la potenziale! Prego! No, dicevo, ma, scusa, un altro, ma non eri alto? Sì! Piondo, riccio, occhi azzurli, mulatto, petto 120, braccio di ferro, coscia lunga, carta di identità numero A, J, 6, 8, 7, 5, 4, 5, 6! Hai detto sei? Sì! No, io c'ho sette! Ah! No, perché se c'è da mio fratello, che fa il budello, ma guadu 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 a me! Sicuro che non l'hanno adottato a te? No! No, 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 no! Noi siamo gemelli, siamo gemelli! Lui è un po' più simile a papà, io più simile al postino! Facciamo causa alle poste, allora, veramente! Facciamo causa alle poste! Ma poi dico, vedi, ma che sei dovuto qua a scnotere? Io non è che c'ho tutta la voglia di scherzare, eh? Hai ragione, già la natura ha scherzato troppo con te, lo capisci? No, no, io vengo da te! Io ne ho fatto buono il posto, ma non ho mai servito! A domani, con una nuova puntata di La Contessa di Via Aziato, Buongiorno